La città metropolitana è un investimento molto importante che significa migliorare la sicurezza, migliorare la quantità energetica, ristrutturare più di 40 scuole dell'area metropolitana di Napoli, costruire una nuova scuola a Terzigno e garantire quindi una qualità dell'ambiente scolastico per i nostri studenti, per il personale scolastico, per i docenti, fare in modo che proprio dalla qualità dell'ambiente scolastico parte il rilancio della nostra area metropolitana. Signale c'è un problema, un obiettivo evidente, con il piano prezzi, molte gare c'è il rischio che vanno a un deserto? Sì, su questo c'è stato già un intervento del governo che ha garantito una copertura dell'incremento prezzi per alcuni segmenti di gare. Adesso noi ci auguriamo che il nuovo governo appena si insedi e stenda, come è stato chiesto dal Lanci, questo incremento finanziario per tutte le gare del PNRR in maniera tale da dare quel margine economico che serve per fare in modo che quelle gare guardano a poco. Questi lavori vanno anche nella direzione dell'efficientamento energetico, quindi nel risparmio? Sì, sì. Vanno sicuramente a sicurezza sismica, efficientamento energetico, ampliamento di strutturazione di molte scuole, quindi anche ovviamente nuove aule, nuovi laboratori, un investimento importante che riguarda sia Napoli che città, ovviamente, che a volte molti problemi dell'area metropolitana. Ecco, proprio sull'area metropolitana c'è la questione del Marconi a Giugno, ragazzi che devono fare orari assurdi, in varie scuole, la situazione è abbastanza difficile, come si risolverà o troverà? Allora, la questione di Marconi si era trovata una soluzione alternativa fuori in Comune che garantiva il trasferimento di tutta la scuola. Il Comune e la dirigente scolastica hanno preferito che la scuola restasse a Giuliano, è stato fatto un avviso pubblico per trovare degli immobili privati che possono garantire nel frattempo che c'è l'adeguamento sismico della scuola persistente, di poter garantire un normale andamento scolastico, l'avviso è andato a buon fine, ci sono state due offerte che sono state valutate in maniera positiva, adesso si chiuderà la contrattualizzazione definitiva con le scelte, ci sarà il tempo dell'adeguamento, l'ipotesi è di rimettere il nostro obiettivo che per il 31 di dicembre si completi tutto l'idea per cui ci sia la disponibilità dei nuovi spazi, ma è a tale da tutti i diseggi di insieme. Signore, quale è l'argomento? L'argomento sicurezza, dopo il caso di ieri del nostro pro al porto, ne ha detto che garantiremo più sicurezza, ma in che modo? Allora, oggi c'è un comitato in prefettura perché c'è la necessità ovviamente di rivedere il piano della sicurezza delle forze dell'ordine in città, soprattutto per quello che riguarda le ore catture, chiaramente per quelle che invece il periodo che è coperto anche dal lavoro dei nostri vigili urbani, abbiamo sempre dato disponibilità ad afforzare sempre di più il coordinamento delle forze dell'ordine per poter operare in maniera sempre più efficace. C'è poi un tema molto importante che è il tema dei senza fissa di mora, un tema che va affrontato perché ovviamente guardando ai temi della solidarietà bisogna considerare che molti di questi senza fissa di mora hanno problemi psichiatrici, problemi di dipendenza, quindi c'è necessità di una task force di tipo sanitario che insieme ai servizi sociali seguono queste situazioni perché anche questo è un modo per garantire maggiore sicurezza in città. Consigliere Cioffi, allora 178 milioni, una cifra importante per l'edilizia scolastica della città di Napoli. Sì, un finanziamento appunto importante, mi sento di dire con una sola parola concretezza, si passa da una definizione programmatica a quello che è quello intervento concreto sul territorio, 178 milioni, una definizione più grande per i cittadini, per i cittadini, per i cittadini, per i cittadini, per i cittadini. Vista anche ovviamente per tutta l'area metropolitana, quindi tante anche scuole della provincia che saranno interessate. Sì, questo è frutto di un lavoro che è stato fatto di mappatura, gli interventi sono a macchia di doparto, interessano tutta la provincia di Napoli e la città di Napoli. La prima forma di intervento è poi eseguiranno altri interventi che la città metropolitana metterà in atto, solo a base delle esigenze che ci sono su tutti i problemi. Consigliera Bagnale, un intervento importantissimo che copre quasi tutte le scuole del territorio, credo che l'amministrazione possa essere soddisfatta dei risultati. Assolutamente, Manfredi ci sta dando una grande opportunità di toccare con mano quelle che sono le esigenze del territorio, ma soprattutto renderle concrete, attuabili in un lastro temporale così breve. In pochi mesi un traguardo straordinario, 878 milioni di euro, che solitamente potevano essere perseguibili, se perseguibili, magari nell'arco di un quinquennio. Riusciamo a toccare a raggiare la larga parte dei territori del comprensione metropolitano, ma soprattutto in maniera oculata andiamo a toccare quelli che sono i paesi a maggiore di vario sociale, quindi cercare in qualche modo di sensibilizzare le zone del territorio più particolari, a rendere possibile la creazione di strutture che rendano l'opportunità ai nostri giovani di poter crescere ed edificarsi secondo un progetto soprattutto anche di interazione multiraziale, multiettica, ma soprattutto con un perno di legalità e di inclusione sociale. Grazie.